Non ce l'ha fatta Teresa Malacarne, la 64enne originaria di Ferrara, rimasta coinvolta nel terribile incidente lungo la statale 73, tra Rezzo e Dolmo, nei pressi del supermercato S. Lunga, che si era verificato lo scorso mercoledì. La donna è deceduta domenica pomeriggia a seguito degli importanti traumi riportati nel violento schianto. La 64enne, dopo l'incidente, era stata trasferita in codice rosso con l'olissocorso Pegaso all'ospedale Fiorentino di Careggi. Si trovava in terapia intensiva all'interno del trauma center con un importante politrauma. La famiglia, dopo il decesso, ha deciso di donare gli organi. Nel violento schianto era rimasto ferito anche il marito della donna, un 68enne, trasferito all'ospedale Le Scotte di Siena in codice rosso. L'incidente era avvenuto nel primo pomeriggio dello scorso mercoledì. L'auto sulla quale viaggiavano i due coniugi era finita contro un camion di generi alimentari. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco che avevano estratto i feriti dall'auto, i sanitari del 118 e la polizia locale di Arezzo, che adesso sta cercando di far chiarezza sulla dinamica dello schianto. Grazie.